Torna l'antica fiera della frecagnola di Canna Longa, una delle manifestazioni gastronomiche più famose della Campania. L'ondata pandemica aveva di fatto stoppato quello che è da decenni l'appuntamento enogastronomico che conclude la stagione estiva, una cinque giorni all'insegna delle tipicità nostrane ma anche un unicum per la degustazione del bollito di capra. La nuova edizione della fiera della frecagnola prevede delle novità a raccontarle il sindaco Carmine Laurito. Sicuramente quest'anno ci saranno delle novità dal punto di vista organizzativo che riguardano non solo la parte del mercato che si tiene il sabato e anche gli altri giorni ma che riguardano anche la somministrazione degli alimenti. Quindi proprio perché siamo stati fermi i tre anni abbiamo come amministrazione immaginato che dovendo ripartire vogliamo ripartire in un modo ancora più consono alla manifestazione. Per fortuna siamo sempre riusciti ad assicurare la qualità, non mi risulta, io non sono a conoscenza di episodi che si sono verificati sulla somministrazione degli alimenti e come conseguenza degli alimenti somministrati. Faremo però in modo che questa condizione sia ulteriormente potenziata dal punto di vista della prevenzione e quindi, ma non solo, faremo in modo di cercare di gestire al meglio il numero di persone che quest'anno vorranno venire alla fiera della frecagnola. Io sto cercando di aprire ulteriormente gli orizzonti della fiera perché fino all'ultima edizione era una fiera più locale dove gli espositori, a parte gli stand che continueranno ad essere residenti del comune di Canalonga, però la parte esterna era sostanzialmente limitata a cittadini del posto. Quest'anno invece inizieremo ad aprire questo circuito perché l'obiettivo nostro è stato ed è quello di essere vetrina del Cilento e quindi fare in modo che questo evento così atteso possa effettivamente essere l'occasione per le aziende di venire da noi ad esporre. Noi saremo, sono già in contatto con un numero abbastanza elevato di artigiani, aziende agricole, aziende vitivinicole, una serie di espositori che sono disponibili a venire nei giorni della fiera e però, ripeto, mi piace sottolineare questo aspetto. Dobbiamo iniziare a ragionare di quello che è il prodotto cilentano. Questo è un discorso che facciamo solitamente e siamo abituati a farlo. Quindi quella deve essere l'occasione nella quale il prodotto non solo locale, cioè inteso come candalongo, ma il prodotto del Cilento deve essere messo a disposizione di chi lo vuole guardare, assaggiare e degustare. Iniziamo a fare un ragionamento più aperto e iniziamo a fare un ragionamento che da quest'anno in poi darà la possibilità di potenziare non tanto il numero di visitatori, ma è quanto la qualità di quello che noi diamo. È non intesa come mancata qualità che è stata data fino ad oggi, ma qualità intesa come possibilità di mostrare in quei giorni il prodotto cilentano e quindi non è un prodotto che nasce e finisce a candalongo, ma deve essere un prodotto che nasce e finisce nell'intero cilento.